Musica Musica FUTBALL IS MY LIFE In particolar modo su Napoli-Lazio 1-1 e sulla top 11 Allora Napoli-Lazio è stata una buona partita Una partita iniziata a buoni ritmi con le squadre che giocavano a viso aperto Qualche errore a centrocampo da una parte e dall'altra Però comunque è stata un primo tempo piacevole con qualche occasione sia per il Napoli che per la Lazio I partenopei hanno cercato di spingere di più però non riuscivano a fare veramente male alla Lazio Anche perché erano spuntati si sentiva troppo la mancanza di una vera prima punta La Lazio invece si è difesa bene e cercava di pungere in contropiede Nel secondo tempo poi dopo un discreto inizio della Lazio in cui ha avuto un paio di buone occasioni con Immobile Il Napoli è passato in vantaggio con un bel gol di Amsic Che ha ricevuto un filtrante da Coulomb Entrato in area di rigore ha superato due difensori e ha incrociato il pallone dalla parte opposta Dopo pochi minuti la Lazio pareggia con Keita Un tiro non irresistibile che Pepe Reina però non riesce a parare Subito il gol dell'1-1 il Napoli si ributta nuovamente all'attacco Cerca il gol con delle conclusioni da fuori Ma Marchetti si fa sempre trovare pronto e permette alla Lazio di portare a casa il pareggio Andando poi un po' a vedere velocemente le pagelle delle due squadre Nel Napoli ho dato a Pepe Reina 5 5 perché è colpevole sul gol dato che ha preso un gol abbastanza da pollo sul suo palo Con un tiro tra l'altro non irresistibile Bene la linea difensiva Isai, Koulibaly, Kirchis e Goulam 6 e mezzo a tutte e quattro Terzini propositivi E soprattutto poi Goulam ha fatto anche l'assist per Amsic La coppia centrale invece è stata piuttosto attenta 6 Zieninski, 6 e mezzo a Diavara 7 ad Amsic che ha segnato un bel gol E poi si è caricato la squadra sulle spalle per portarla a vincere 6 meno a Cajekon Non nella sua giornata migliore diciamo così 6 a Mertens e a Insigne Sono stati pericolosi per tutto il tempo che hanno giocato Con delle conclusioni da fuori Ma non sono riusciti a segnare 5 e mezzo poi Gabbiedini subentrato Gabbiedini anche sabato sera Impalpabile Non sono il primo che lo dice Però è evidente che lui non sia una prima punta Tra l'altro adesso si è anche infortunato in nazionale Però tralasciando questo Il Caduri, Allan senza voto Allenatore Sarri, 6 Nella Lazio invece ho dato 7 a Marchetti Marchetti che ha fatto una buona prestazione Compiendo degli interventi decisivi 6 a Basta 6 e mezzo a Wallace 6 a Radu Una difesa nel complesso attenta Si è comportata bene Ha un po' delle responsabilità sul gol Perché non ha seguito bene i movimenti di Amsic Se no avrebbe avuto anche un voto più alto Però comunque una prova nel complesso positiva 6 e meno a Felipe Anderson 6 e mezzo a Parolo 6 e meno a Biglia Biglia non è al top ancora della sua condizione Non ha fatto una partita stupenda Ma a me oggettivamente non ha nemmeno fatto così tanto schifo 6 e mezzo a Milinkovic e Savic Uno dei migliori in campo della Lazio Che ha dato sostanza e qualità al centrocampo Sei Lulic 6 e mezzo a Keita per il gol Immobile 6 Subentarati Patrick 6 Giorgevic e Lombardi senza voto Allenatore Simone Inzaghi invece 6 e mezzo Poi andando a vedere un po' i risultati delle altre partite La Juve non gioca benissimo Ma vince anche contro il Chievo per 2 a 1 Secondo posto invece occupato dalla Roma Roma che ha vinto 3 a 0 in casa contro Bologna Terzo invece il Minan che ha vinto A fatica per 2 a 1 sul campo del Palermo Continua poi a vincere l'Atalanta di Gasperini 3 a 0 sul campo del Sassuolo Atalanta che bisogna davvero farli complimenti Perché nelle ultime sette giornate ha ottenuto 6 vittorie Poi anche una squadra che gioca bene e lancia molti giovani Soprattutto italiani Torna invece a vincere anche l'Inter che batte 3 a 0 il Crotone Mentre in coda alla classifica Roboante successo del Lempoli 4 a 0 sul campo del Pescara che in questo modo Stacca di 3 punti le altre squadre che lottano per la salvezza Dato che hanno perso tutte Ora però andiamo a vedere la top 11 di questa dodicesima giornata Come modulo ho scelto un 3-4-3 In porta ho messo Carnesis Difesa 3 con Conti, Caldara e Benatia I primi due hanno segnato due gol nella bellissima vittoria dell'Atalanta Sul campo del Sassuolo Sono anche due giovani molto promettenti per la nazionale italiana Centro campo a 4 con Suso, Benassi, Baselli e Amsic In attacco Salah, autore di una tripletta nella vittoria della Roma Mi ha anche fatto fare 19 punti in più al Fantacalcio Scusate 17 punti in più al Fantacalcio Quindi lo ringrazio ulteriormente Belotti, autore di una doppietta nella vittoria del Toro contro il Cagliari per 5 a 1 E poi Maccarone, anche lui, autore di una doppietta nella vittoria dell'Empoli Va bene ragazzi, per oggi è tutto Come al solito vi invito a iscrivervi al canale A iscrivervi alle varie pagine Facebook e siti web Io vi saluto e ci vediamo la prossima Ciao ragazzi